Quando bisogna ricorrere All'aiuto dell'ospedale Assolutamente in presenza di segni Di emorragia gastrointestinale Ovviamente in presenza di vomito Con sangue rosso vivo In presenza di melena Una condizione che necessita Assolutamente il ricovero ospedaliero Così come la febbre richiede il ricovero ospedaliero Così come l'encefalopatia epatica Negli stadi avanzati In cui il paziente è sonnolente E non si riesce a gestire domiciliarmente In questi casi è assolutamente necessario Il ricovero in ospedale Il ricovero in ospedale